E ogni anno sul cominciare dell'autunno si tiene a Firenze la storica fiera mercato degli uccelli. Una manifestazione che risale al XV secolo e alla quale i fiorentini sono particolarmente affezionati. Gli uccelli per la verità un po' meno. Addirittura in bestialiti questi volatili notturni che con quella gran luce e quella gran folla proprio non ci si raccapezzavano. Ci sono anche gli uccelli ammaestrati, fanno quel che possono per guadagnarsi il miglio quotidiano. E c'è anche la gara dei pischiatori con relativa giuria. Ecco la pavoncella. Questo invece è il solito tordo. Il fischiatore col naso dovrebbe starci più attento. Le civette a chiamarle col loro nome è noto si offendono.